Sei a Modena? Vieni a Piazza Grande! A due passi dal Duomo c'è uno spazio per trovare tutte le informazioni che cerchi e non perdere nessuna opportunità. Servizi digitali, lavoro, formazione, Europa, partecipazione alla vita pubblica, iniziative e un'area Wi-Fi ad alta velocità. Vieni! Ti aspettiamo a Piazza Grande! Piazza Grande, il cittadino al centro dell'informazione.